Un disegno di legge è il numero 39 che va in sostanza a dare una mano ai comuni nell'espettamento delle proprie procedure concorsuali e lo sappiamo benissimo in questo periodo di crisi pandemica moltissimi concorsi non si sono potuti effettuare per la mancanza di strutture e la mancanza di sicurezza nell'affrontare le prove scritte orali e allora con questo disegno di legge si va a introdurre una norma voluta a livello nazionale che sostanzialmente permette una semplificazione a seconda del concorso dove ogni comune può se vuole usare questo sistema per indire i propri concorsi per implementare il personale che come noto è uno dei problemi più importanti dei nostri comuni questa no questa questa legge va però a una scadenza abbiamo messo una scadenza il 31 dicembre 2021 o comunque fino alla fine dell'emergenza della pandemia proprio per tutelare quello che è la nostra peculiarità quella di saper farci le leggi in casa e quindi per questa volta in un momento di emergenza andiamo profittiamo di una norma nazionale però dobbiamo essere sempre in grado di riuscire a farci le norme quindi il 31 12 è il termine di scadenza legato proprio al periodo della pandemia